il numero legato. Ma viene travalizzato? Sì. Viene travalizzato? Sì. Alle ore 22 risultano con esempio i consiglieri Valentini, Lorenzo, Cavalini, Bollegin, Valentina, Papà, Fabrizio, Perlino, Alessandro e Papà, Fabrizio. Sto atto per le giustificazioni pervenute. All'ufficio di presidenza da parte del consigliere Benedetto Romano e della consigliere Benedetto Rossella. E con la dichiarazione senza essere fatta alle ore 22. Siete d'accordo che un anno fa? Siamo alle 22. Siamo alle 22. Siamo alle 22. Meno 8 secondi.